La San Valentino Servizi ha bonificato l'area e le strade che costeggiano il canale Fosso Imperatore. Il sindaco Michele Stranese aggiorna sullo stato di salute in cui verse il corso d'acqua dopo le innumerevoli proteste degli abitanti della zona che vivono tra rifiuti e cattivi odori provenienti dal corso d'acqua. La bonifica però serve a poco se gli incivili sono pronti a gettare ovunque dei rifiuti. Noi ultimamente, la settimana scorsa, 7-8 giorni fa, abbiamo completato con la San Valentino Servizi un intervento di bonifica di pulizia di tutte le aree che stanno intorno al canale, quindi la stradina pertinenziale, la stradina di servizio che era invasa da rifiuti lasciati in maniera incontrollata da ignoti e abbiamo bonificato tutta quell'area anche le stradine perpendicolari a questa qui che costeggia il Fosso Imperatore. Più abbiamo tolto un'altra serie di rifiuti, abbiamo reso l'area più vivibile e più accogliente. Il consorzio di bonifica si sta occupando della pulizia dell'alveo, quindi della sfalciatura delle erbe e della pulizia delle sponde e del canale. Nei prossimi giorni, io ho sentito proprio ieri il commissario del consorzio, si provvederà ad un dragaggio provvisorio di alcuni punti dove si è concentrato sedimento per favorire il deflusso delle acque. In ogni caso il consorzio ha già pubblicato la gara per un dragaggio complessivo del canale per migliorare le pendenze e favorire il deflusso. Con il comune di Nocere Inferiori ci siamo visti durante il mese di agosto e loro stanno procedendo ulteriormente per la verifica sugli sversamenti da parte delle aziende e delle industrie che si trovano nell'area industriale. Quindi diciamo che stiamo lavorando in sinergia, ognuno cerca di fare la propria parte per la propria competenza. Però noi abbiamo appena pulito, abbiamo appena investito tante energie, anche economiche, però ci vuole collaborazione dei cittadini perché si va continuamente a sversare. Non è possibile mettere videosorveglianza in ogni stradina periferica. I nostri comuni sono molto estesi, ci sono molte zone di campagna, molte zone agricole, c'è molta viabilità rurale, non è pensabile che in ogni stradina periferica possiamo mettere videosorveglianza. Per cui il mio appello è ai cittadini perché se la pubblica amministrazione fa dei sacrifici per tenere in maniera decente queste aree, queste zone, non ci si può dopo due giorni, dopo qualche giorno andare di nuovo a sversare rifiuti in maniera così incontrollata.